Adesso un attimino proprio per spezzare il canto, vi presento quello che domani sera sarà qui con la sua orchestra e farà ballare qui, quindi vi raccomando non mancate domani sera, vi raccomando, perché vi diverterete sicuramente tanto, tantissime, vi farete tanto buon sangue. Sì, usa questo, è qui, eccolo, è il favoloso, stupendo, megalattico, Marino! Marino e la sua fisarmonica. Sentirete che roba, Marino che si fa a ascoltare? Il Carnevale di Venezia. Senti, lo dedichiamo a tutti, lo posso dedicare ai miei amici di Piozzano che sono tanto amanti della musica e poi ti ammirano, posso? Ai miei amici di Piozzano, Carnevale di Venezia, vai, grazie! 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 Signori, la fisarmonica di Marino, si sente che è di queste montagne. Grazie! Signori, la fisarmonica di Marino, bravo!